Siamo diventati per la prima volta la quarta nazione esportatrice al mondo, abbiamo superato il Giappone e la Corea del Sud. L'ultima volta che abbiamo messo dei titoli di Stato sul mercato proponevamo di vendere 13 miliardi di euro di titoli di Stato e sono arrivate richieste per oltre 200 miliardi di euro. Tutti oggi vogliono investire in Italia perché l'Italia oggi non è più la nazione che non aveva certezza, è la nazione che dà delle certezze. Grazie alla stabilità di questo governo, grazie alla serietà della politica che stiamo portando avanti e poi i dati sull'occupazione che sono quelli si sa che mi rendono sempre più orgogliosa. Noi abbiamo oggi il tasso di occupazione più alto dall'unità d'Italia, il tasso di disoccupazione più basso da 17 anni a questa parte, diminuisce il precariato, crescono i contratti stabili, crescono i lavoratori autonomi che significa che c'è sempre più gente che vuole mettersi in gioco. Stavolta l'ho detti bene i dati perché quando sono intervenuta in Emilia Romagna mi sono sbagliata, ho detto occupazione al posto di disoccupazione e ci stanno facendo camminare i treni da quattro giorni, perché loro sono così, si attaccano all'Apsus, che dobbiamo fare? e a dispetto delle femministe, no? Storia, la parità, assessora, presidenta, capatrena, ecco, diciamo che io ho un'altra idea della parità e quindi va bene il presidente, ma sono fiera che sia sotto questo governo guidato dalla prima donna nella storia della Repubblica italiana, che le donne hanno il tasso di occupazione più alto.